Don Bosco è qui per me. Significa che Don Bosco in primo luogo è anche nel mio cuore. Don Bosco è qui tra di noi. Don Bosco è veramente qui a Valdoco e a tanti luoghi dove un giovane, un SIDV, un salesiano, una figlia di Maria Scilatrice, un laico di tutto il mondo, voglia fare in realtà il carisma di Don Bosco, l'estilo di Don Bosco, l'espirito di Don Bosco. Perciò vi dico che per me Don Bosco è qui, è tra di noi, è nel mio cuore e vi invito alla serata del 30 di maggio. Auguri a tutti. Ciao, ci vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.